IAC con noi è una task force che abbiamo creato perché è fortemente voluta dal professor Boriani per avvicinare le associazioni spontanee di pazienti ad IAC. Abbiamo già portato avanti diverse iniziative in comune. In occasione del congresso da IAC del 2018 avremo un incontro che penso sarà molto importante perché l'argomento dell'incontro sarà quale tecnologia alle associazioni dei pazienti e quindi ai pazienti quale evoluzione tecnologica può piacere di più al paziente e quale quindi i pazienti vogliono che portiamo avanti insieme col supporto di IAC in un confronto con le istituzioni, visto che ormai quotidianamente ci troviamo a lottare con il deficit economico in cui si trova il nostro paese e la volontà di migliorare sempre quelle che possono essere le cure per i nostri pazienti e in questo la tecnologia ci viene molto in aiuto però dobbiamo capire probabilmente su quale tipo di tecnologia orientare maggiormente le risorse.